Allora, qualche giorno fa vi feci un post dove vi chiesi se volevate un tutorial su come evitare il copyright perchè ultimamente so che la tuoi e non solo, stanno facendo delle stragi assurde Eccovi qua Innanzitutto, chiariamo una cosa Questo video che vi sto facendo vedere è un test che ho fatto È un video non visibile a tutti, è semplicemente messo non in elenco O anche privato, non mi ricordo Ed è stato preso dal copyright Il perchè ve lo spiegherò dopo Prima di tutto come funziona il copyright Allora, da quel che ho capito ci sono tre tipi diversi di copyright Il primo che semplicemente non puoi monetizzare un video, non è niente di grave Il secondo che è quello che ho preso io che è da bloccata, parzialmente in questo caso E la terza è lo strike dove il tuo video viene tolto e il tuo canale subisce una segnalazione A tre segnalazioni diverse il tuo canale viene buttato giù Per fare questo test ho scelto Sailor Moon Se volete fare il test anche voi potete uscire qualsiasi serie Però io ho scelto Sailor Moon perchè è quella più a rischio di tutte Quindi sì, sto rischiando di prendere uno strike tanto per fare questo tutorial Ma tanto lo strike che ho già preso con la route è scaduto quindi non mi interessa L'unico modo che sono riuscito a trovare per bloccare l'algoritmo da leggere il video sotto copyright E' la color correction Ho provato in altri modi A mettere il video specchiato, a strecciare il video, a rimpicciolirlo, a mettere cose davanti al video Ma non funzionano Questo è l'unico modo per non farlo riconoscere Può comunque esservi dato un copyright manualmente Quindi qualcuno vede il vostro video e ve lo segnala Ma siccome siamo italiani E l'italiano è una lingua che viene parlata esclusivamente in Italia Non è un problema che ci riguarda Ora, come funziona esattamente l'algoritmo di YouTube per il copyright? In teoria c'è un algoritmo che ogni 5 secondi controlla se nel tuo video è presente un contenuto protetto da copyright Come in questo caso un video di 6 Se vedi che ci sono troppi secondi del vostro video, troppe scene o troppi secondi del vostro video in cui compare qualcosa affetto da copyright Subite uno dei tre effetti del copyright Quindi non monetizzare, bloccato o strike E quindi noi adesso cosa andiamo a fare? Andremo a cambiare tramite Adobe Premiere il colore di una scena ogni 5 secondi Io per farvi vedere meglio ho deciso di farlo anche con scene in primo piano Ma voi potete cambiare anche soltanto colore di sfondo Per esempio il cielo dietro i personaggi o cose simili Tanto il bot YouTube non dovrebbe comunque riuscire a riconoscerlo Partiamo da questa clip Vi lascio in descrizione il link per il video se volete controllarlo in qualità un po' più alta O per vederlo in concomitanza con me Vi farò vedere prima la scena originale E poi quella modificata Come possiamo vedere fin qui I colori dovrebbero essere verde e rosso normale Nella versione modificata invece Andiamo a rivedere la scena Possiamo già vedere che qui c'è stato un cambio di filtro Perché il colore verde che prima rappresentava una parte del colore di sfondo è cambiato E qui possiamo vedere che già abbiamo avuto alcuni cambiamenti E qui notiamo che Quelli che prima erano effetti verdi Sono adesso cambiati con effetti rosa o comunque viola Per fare una color correction dobbiamo andare su colore lumetri Spero di averlo pronunciato bene E qui possiamo vedere varie curve di saturazione tinta Tra tutte le varie tinte Quella che vi consiglio di modificare è tonalità 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 saturazione non funziona sempre purtroppo Perché con alcuni colori potrebbe comunque rivelarvela Tonalità luma ve la sconsiglio perché rischierebbe di sgranare troppo il vostro video Quindi tonalità tonalità come abbiamo detto Possiamo vedere che ho preso i colori verde E li ho modificati abbassandoli E li ho resi di un colore più tendente all'azzurro Infatti se andassimo a vedere questa scena C'è per gli occhi più acuti ovviamente Abbiamo dei colori più tendenti al viola Perché è uno dei colori che ho selezionato Ma anche con una presenza di azzurro Il problema di queste color correction è che a volte potrebbero crearsi effetti come questi Guardate Ecco Qui possiamo vedere che dentro la sfera di cristallo Il colore purtroppo è rimasto comunque verde Ho provato a modificarlo ma andava troppo a imbruttire la scena Vi faccio vedere Se io andassi a prendere queste parti qui e a modificarle Non riesci a cambiare del tutto Vi do un consiglio Se avete cambiato idea e avete fatto troppi cambiamenti per fare ctrl z e tornare indietro Con i cambiamenti Vi basterà cliccare due volte su uno dei quadrati neri E ve li rimetterà tutti quanti come erano prima In originale In quest'altra clip È già molto più evidente il problema della color correction Che se ad esempio volessi lasciare il verde ma cambiare l'azzurro e il blu In questa scena dove c'è una forte presenza come si può vedere del colore verde e del colore azzurro Uscirà questo effetto terribile di pixel Per provare a migliorare questa scena dovremmo andare a cambiare anche i colori verdi Anche una parte dei colori verdi Che come abbiamo già detto però ci servivano e non volevano cambiare E questo è un problema D'altra parte un altro uso che potete fare del colore lumetri Oltre a evitare il copyright È magari provare a rendere alcune scene in modo particolare Ad esempio Qua possiamo vedere che la scena originale Avveniva durante il giorno Quindi il cielo azzurro Ma cambiandolo in questo modo Abbiamo un cielo più rosso o arancione Quindi possiamo magari rendere una scena da un orario all'altro Una di pomeriggio la possiamo rendere come una sera Come un cielo rosso Qua invece ho provato ad utilizzare il luma A parte questo casino che ho fatto con la tonalità Per cambiare tutti i colori Questo è il massimo che sono riuscito a spingere Il color La tonalità all'uma Senza sgranarla troppo Se la zassi ad esempio si vedebbero sempre di più i pixel E ho provato anche a cambiarla in altri modi Ma è difficile renderla per bene Come potete vedere Cambiandola così Sì i pixel qui stanno scomparendo Ma stanno apparendo da quest'altra parte Quindi se proprio dovete usarla Tenetela bassa Qui invece ho portato alcuni cambiamenti Di sfondo Come possiamo vedere Le piante sono diventate di colore azzurro E il cielo Non so se si vede È diventato più di colore verde Quindi sì ho riambulato una Mac Guardiamo quest'altra scena Che in realtà sarebbe la prima che ho fatto E qua si nota un altro problema Della color correction Quando non ho fatto se i colori adatti Ovvero questo Qui i capelli ok Ci possono anche stare Che da Biondo Biondo Più o meno biondo Sono passati a Questo colore qui Però Quelli di Usagi A parte essere sgranati Perché Il cambio colore non ha funzionato proprio benissimo Si notano comunque queste Questa luce Fastidiosa Andando su colori lumetri Si può vedere che ho provato a Sautolarlo un minimo Perché mi stava dando veramente fastidio Era l'elemente del bianco A quanto pare troppa saturazione Può creare questo effetto strano Di Di luminosità Quasi neon Quindi se volessimo Risistemarla Più o meno Dovremmo Desaturare A base Della saturazione E creare un effetto simile a questo Anche se Non era quello che speravamo Perché speravo in un risultato un po' più Nello stesso colore Invece che questa parte Troppo chiara E questa troppo scura Poi ricordatevi che Fare la color correction A un colore Non cambierà soltanto l'oggetto Ma cambierà ogni volta che appare Quindi magari Qui ho cambiato I capelli di questi due personaggi Però ho cambiato anche la luce qui Magari adesso che ho tolto la saturazione Si noto un po' di meno Ma La luce lì è È da gialla È passata a rosa E questo magari qualcuno di voi Potrebbe non volerlo Perché una luce rosa Non è proprio un bel dettaglio Da mettere in un video Stessa cosa con La scritta Se lo fu in In sfondo Qui bisogna un po' Tenere d'occhio Una soluzione Potrebbe essere Ma questa è molto lenta Come soluzione Scontornare Creando un mascherino Quindi In altre parole Create un Traccio da maschera E cominciare A scontorare Adesso io lo farò Malissimo Perché Voglio stare qua Troppo tempo E sto facendo anche danno E vi dovrebbe dare Un risultato del genere Magari fatto un po' meglio Però Potete anche provare A nasconderlo Con la sfumatura Più o meno Ecco tipo in questo caso Ho provato un po' A fare un gioco di colori Qua si vede ancora Del biondo Però Lo faccio passare Come Posso farlo passare Come riflesso della luce Semplicemente Cosa ho fatto in questo caso Per evitare di Scontornare troppo Ho messo un po' Di sfumatura Ho fatto Ho preso Ho tagliato Con un po' Di Con molta distanza Dal Dalla protagonista Così Potevo creare Questo effetto di sfumatura E qua Giungiamo al punto Del video Che mi ha dato il cover Un errore che ho fatto Perché sono stupido Voi ricordatevi Di ronfarlo Prima di tutto Non ho tanto cambiato Un colore Non ho fatto proprio Una color correction Ma ho cambiato La saturazione Quindi ho reso Ho provato a rendere I capelli bianchi Detto in poche parole E il risultato È questo Che da Così Passa a questo Che non è proprio Un grandissimo cambiamento Per Per il programma Perché riesce comunque A leggere Potrebbe comunque Leggere questo Come biondo Inoltre Un altro errore Perché sono comunque Stupido Ho lasciato Più di Ben più di 10 secondi Ho lasciato Questo punto qui Dove non c'è Nessun Cambio di colore Non Qua ho tolto La saturazione Al giallo Ma qua non compare Il color giallo Quindi ho semplicemente Lasciato la clip intera Per troppi secondi Non E non me ne sono accorto Quindi Vedete bene Di controllare O vi beccate Un copyright Che magari Non vi toglierà il video Ma è comunque fastidio Questo perché Vi blocchierà Il video E solo Ho noto Che sembra Fattissima Veramente Quindi Come fate A evitare Un problema Simile a questo 10 10 5 secondi Grazie Il microfono Per rovinarmi Come al solito Mi rovini Sempre Le giornate Ogni 5 secondi O Lasciate La La color correction Che avete fatto Oppure Se non vi piace La color correction Che avete fatto Fate una cosa del genere Dove Più o meno Ogni 5 secondi Passa da Originale A color correction Qua si vede Da blu Lo spazio diventa Rosso Per esempio Più o meno Più o meno Più o meno Più o meno